John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, è ufficiale Coric o Cioric, poi dovremmo capire insomma come si dice perché tutti dicono Coric ma i più esperti dicono Cioric e quindi i più esperti hanno sempre ragione, è un nuovo giocatore della Roma. Prima di cominciare devo dirvi una cosa molto importante, domani io sarò a Milano per una partita di beneficenza, sarò a Milano, nazionale hip hop contro youtuber team, mi raccomando ragazzi non mancate partita di beneficenza, ore 20 quindi mi raccomando, si paga 10 euro l'ingresso, andrà tutto devoluto appunto in beneficenza all'ABO, associazione per bambini in ospedale, quindi andiamo praticamente a comprare questi lettini per i genitori che devono stare con i bambini la notte, appunto sono costretti poi a passare la notte in ospedale. La via è via Enrico Terzaghi, il campo è Masseroni Marchese, venite lì, ci trovate lì, facciamo questa partita di calciotto, anzi in realtà di calcette perché è 7 contro 7, è una battuta veramente brutta, però mi raccomando ragazzi non mancate. Detto questo, detto questo, detto questo, Cioric o Coric è un nuovo giocatore della Roma, io feci un video tipo 7 mesi fa ma fui costretto a cambiare titolo perché la gente cominciò a rompermi le balle, sicca non è ufficiale, non è ufficiale, non è ufficiale, io lo sapevo che era ufficiale ragazzi, ma stanno sei ufficiale tipo da Dana Vita, però vabbè alla fine sono stato uzzito, abbozziamo, tanto alla fine è sempre così ragazzi, quando cerco di fare un video e dico che è ufficiale è perché lo so, non è perché voglio, poi ci sta che Manolas che sta in Russia, sta coleri in Russia, ci ripensa, non è che posso essere nel cervello di Manolas che ci ripensa. Detto questo ragazzi, detto questo, Cioric è bel giocatore, bel giocatore, non saremo a vedere insomma di chi stiamo parlando, 21 anni quindi è molto molto giovane, ma al di là dei 21 anni ha comunque accumulato tante esperienze, perché parliamo di un giocatore che ha fatto 143 presenze, in queste 143 presenze ha fatto 23 gol, 24 assist che non sono affatto male, quindi insomma segna e fa segnare, il che potrebbe essere una qualità molto 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 importante. Inoltre va detto che l'abbiamo pagato 7 milioni di euro e va molto bene perché per quanto ne sapevo io il primo prezzo che si era fatto appunto era quello di 12 milioni, quello di gennaio e quello sembrava insomma su quello si chiudesse. Invece poi la Roma è riuscita comunque a portare a casa il giocatore per un prezzo molto più accessibile che è quello di 7 milioni di euro, quindi non posso che essere contento. Poi staremo ovviamente a vedere come Di Francesco lo metterà in campo. Mi piace il metodo Monci, mi piace davvero tanto il metodo Monci, il metodo Monci ragazzi ve lo sto facendo vedere che è un po' quello di Di Francesco. Basta comprare panchinari che rompono le balle, compriamo panchinari che costano abbastanza, che sono già pronti, che però sono molto giovani, quindi non si lamentano quando fanno panchina, però quando li mette in campo vogliono mordere il mondo e danno il massimo. Sono i vari Under, i vari Gerson e ce ne sono a Bizzeffe, la Roma sta costruendo un progetto su questi giovani, l'abbiamo visto di anno in anno ragazzi, lo stesso Carsdorp a destra, ora staremo a vedere se a sinistra rinnoveremo Jonathan Silva, anche lui comunque è molto giovane se non sbaglio già 24 anni, quindi o comunque giù di lì. Pellegrini, lo stesso Skorupski o Alisson dello scorso anno che ha fatto panchina poi a Scesse, a Scesni, Pellegrini, quindi insomma questo è un po' il progetto Monci e Koric, o Cioric farà parte del progetto Monci. È bassino, è alto 1,72m quindi da lui non va aspettato di avere gol di testa o stacchi imperiosi sulla metà campo, però è un trequartista ragazzi, a lui serve velocità, serve il piedino, quello serve quindi insomma a me va benissimo, va benissimo così. Fra l'altro è molto utile perché al di là del ruolo da trequartista può giocare anche mezzala, il che è importante perché poi di Francesco è abbastanza fissato con il 4-3-3 quindi difficilmente giocherà con il trequartista e quindi mi aspetto poi di vederlo mezzala, un po' come ha fatto con Gerson nell'ultima stagione. Fra l'altro arriva dicendo che i suoi idoli erano Ronaldinho e Totti, io non posso che essere contento, anche se comunque ragazzi mi ha detto che ovviamente non viene a Roma, non puoi che dica il tuo idolo è Totti per addolcirti un po' il pubblico. Vedremo un po' come di Francesco lo mettere in campo, sono curioso di vederlo, non mi esprimo troppo perché ancora non posso dire è un gran giocatore, che ne so ragazzi, aspettiamo di vederlo in questo campionato. Vediamo, potrebbe essere un flop o potrebbe essere un gran giocatore, io ragazzi ho molte aspettative perché mi fido di Monci e questo è il primo colpo ufficiale che chiude la Roma. Fatemi sapere come sempre un commento qua, iscrivetevi al canale mi raccomando, iscrivetevi al canale, se volete che faccio altri video per quanto riguarda l'ufficialità, sto pensato già di fare il video per Strinic al Milan, che comunque non ne ho parlato, volevo un po' dirvi la mia. Vi ringrazio come sempre per la visione, iscrivetevi al canale, buon shalala e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video.